Sta procedendo bene anche all'Aquila e in Abruzzo in generale la vaccinazione in farmacia. La sfida è rendere sempre più operativi questi presidi essenziali anche nell'ottica via via dello smantellamento degli hub vaccinali. Per questo il ruolo di farmacisti e medici di famiglia appare sempre più fondamentale, anche per convincere gli over 60 che non si sono ancora vaccinati perché magari mancano presidi di prossimità. In Abruzzo e in città le adesioni sono state notevoli e continuano ad arrivare, sia le comunali che le private sono in prima linea, come è stato del resto e ancora è per l'effettuazione dei tamponi. I farmacisti in questi mesi si sono opportunamente formati con corsi sia teorici che pratici. Al momento il dato regionale è che si sono superati in Abruzzo le 500 vaccinazioni effettuate in farmacia che nel presidio a cui l'hanno dicopito ad esempio vengono spalmate in due giorni per consentire di svolgere serenamente tutte le attività. In Abruzzo l'adesione delle farmacie alla campagna vaccinale, l'adesione delle farmacie e dei farmacisti vaccinatori è nella media nazionale, è nella media come in tutte le altre regioni d'Italia. Si sta avviando, si sta avviando anche abbastanza bene il processo di vaccinazione dei cittadini all'interno delle farmacie. Abbiamo un dato regionale, penso che siano già oltre 500 i vaccini effettuati, eseguiti nella regione Abruzzo. C'è una differenziazione fra una provincia e l'altra, ma pensiamo che questo gap venga superato e comunque recuperato. Io sono convinto che gli ultrasessantieri, ma come tutta la popolazione, nei momenti in cui il medico di famiglia e il farmacista di famiglia, così come noi in Europa vogliamo che sia il farmacista e come in altri paesi si sta verificando e così speriamo anche in Italia, con un rapporto differente e di fiducia che hanno con i cittadini, possono avvicinare ulteriormente le persone che ancora non sono vaccinate, ma soprattutto possono anche fare un'azione di convincimento che solo loro sono in condizioni di fare come operatori sanitari, farmacisti e medici di base. Le farmacie guardano con attenzione anche i fondi del PNRR, soprattutto per la digitalizzazione. Non è possibile che il sistema paese e il sistema Italia abbiano 21 sistemi sanitari regionali, non è possibile che le piattaforme di una regione per le vaccinazioni anche rispetto alle altre, che i sistemi di digitalizzazione di una regione rispetto all'altra, siano completamente differenti. Non colloquiano fra di loro, il problema delle vaccinazioni e dei posti di vacanze è anche questo e soprattutto drammaticamente consideriamo anche che all'interno di alcune regioni addirittura un'asile rispetto all'altra use ad opera linguaggi, forme e procedure differenti.